allora siamo pronti o no? i reggini all'attacco, la memi, lo zio, pronto ad andare al? al sorapis, perché non si dice sorapis in quanto la pronuncia corretta è sorapis, tradotto? è sopra la cascata, il fiume, quindi capite bene, è fiume non qualcos'altro ciao chiaro, veniamo in pace, non scalzare, ok can I take you there? can I take you there? can I take you there? Allora siamo qua sul sentiero per arrivare a rifugio Sorapisse perché sia la Memmi che lo zio non sono mai venuti, anzi hanno espresso il desiderio. Speriamo di portarli a casa entrambi, interi, possibilmente anche Didi. E comunque è una bellissima giornata, guardate che panorama, si gode la vista, fa bene. Ragazzi, che cosa abbiamo trovato qua, che non ho ancora inquadrato? E' esagerata, eccola qua, che l'anno scorso non c'era. Allora Memmi, livello di difficoltà per il momento della camminata? Ma no, facile dai. Non credeteli perché è una dura la Memmi, le ho sempre fatto fare il corso The Navy Seal sopravvivenza. Comunque sì, per il momento questa è la parte easy. E' uno strappo che fa selezione. Quelle sono le tre cime di Lavaredo. Ragazzi, è uno spettacolo. E ce la godiamo. Riprendiamo. Ora è incredibile perché si sente il calore della roccia che sale mentre la corrente dell'aria è ovviamente fredda. La Memmi è andata. Lo giro si prepara e adesso anche io mi cavo le racchette. Per far capire la facilità del percorso. Io ringrazio ancora quello che aveva detto che era facile nella guida. L'anno scorso. La Susanna è andata. È andata. Non la prendiamo più. Ragazzi, non è finita. C'è un altro punto difficile. Aggrapparsi bene perché si simbola. Esatto. Prego. E pensa dopo quando ti la vedi Roberto, il focaccia, dirà cosa va a fare alla sua età. Poi ti conviene? Poi ti faccio la ripresa. Ah va bene, d'accordo però ti lancio anche te, con la GoPro nel casco. Siete cotti? Insomma abbastanza. Insomma abbastanza. Caldente. Guardateli. Ah ok, siamo arrivati qua. Beh, quando lo vedi vuol dire che non cambia il sole. No. Allora, mi invalsa la pena? Sì. Il lago è straordinario colore. Sì, mamma. Sto mangiando. Ok. Allora eccoci qua, siamo arrivati, abbiamo finito, tutti sopravvissuti, ora si torna indietro. Niente, quindi salutiamo tutti. Salutiamo. Tutti. Ciao tutti dai. Ciao. Ciao. Ciao.